Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Il ragazzo che fino a un anno fa veniva criticato dall'elite degli scacchi ora sta scatenando il panico. Hans Mock Nieman è inarrestabile. La sua ascesa verso il numero uno al mondo è qualcosa di impressionante e sta dimostrando sul campo di poter battere i migliori giocatori al mondo. E' stata organizzata una sfida tra lui e Vidi negli Stati Uniti, una sfida di tante partite e lì per forza emerge il più forte. In particolare hanno giocato al Universal Chess Tour Stadium Events, proprio una sfida tra loro due dove il primo vinceva 30.000 dollari, il secondo 20.000 dollari. E niente, non sto neanche a dirvelo, Hans Mock Nieman stravince contro Vidi e noi andiamo a vedere una di queste partite. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok, eccoci qui. Ci sono delle persone che sono troppo forti, delle persone che non si abbattono, delle persone che se vengono in qualche modo criticate diventano ancora più forti, delle persone che non mollano mai. Non lo so, voi credete nel destino? Se Carlsen non si fosse messo contro Nieman, magari Nieman oggi non era nessuno. Invece questo ragazzo ha preso quell'esperienza, l'ha fatta propria e dopo due anni è numero 30 al mondo, over 2700 fide. È un ragazzo che è maturato tantissimo, è arrivato numero 2 al mondo su chess.com nelle blitz, sta battendo dal vivo pure grandi maestri molto forti come Vidit, perché Vidit ha partecipato al torneo dei candidati. E allora cosa deve ancora dimostrare? Secondo me non può che migliorare ancora, salire ancora. Infatti Nieman sta veramente scatenando il panico. Vediamo la partita che vi mostro sull'e-chess, perché come ben sapete tra Nieman e chess.com i rapporti sono quelli che sono, dato che anche chess.com l'aveva denunciato, insomma no, non so se vi ricordate. E questo evento è stato trasmesso sull'e-chess. Benissimo. Nieman in questa partita gioca con i pezzi bianchi, apre con pedone c4. Partita inglese. Da notare che i due indossavano delle cuffie, indossavano queste cuffie per non sentire il rumore, per cercare di concentrarsi meglio, dato che c'era tanta gente lì in sala che seguiva, era proprio uno stadio. Ok, Vidit continua con pedone in e5. Nieman gioca pedone g3. Vuole fianchettare alfiere campo chiaro. Apertura inglese. Pedone 5 è una delle varianti migliori. Vidit sviluppa il cavallo in f6, segue alfiere g2. Pedone c6, bella variante pure questa. Il nero vuole spingere in d5. Nieman spinge in d4, occupa il centro, segue pedone e4. Vidit prende spazio e limita i movimenti dell'alfiere, quindi ora è pronto a giocare d5. Nieman allora sviluppa l'alfiere in g5. Intende catturare il cavallo in f6. Segue d5 lo stesso, alfiere per cavallo, donna per alfiere, cavallo c3. Ora a Vidit non conviene catturare il pedone in c4, altrimenti perde quello in e4 e l'alfiere diventa fortissimo. Questa posizione è completamente pari. Vidit sviluppa l'alfiere in b4 invece, inchioda il cavallo in c3. Nieman se ne frega e gioca pedone e3. Segue a Rocco, Vidit mette il real sicuro, Nieman gioca cavallo e2, con cavallo e2 difende il cavallo in c3. La partita prosegue con cavallo d7, pedone per d5, pedone per d5, donna in b3. Molto interessante, è un po' simile alla partita che ho giocato io, che vi ho mostrato ieri, però io l'ho giocata con i pezzi neri, no? Ma il piano è identico. Il bianco cos'è che vuole fare? Vuole giocare cavallo f4 e attaccare in tutti i modi il pedone in d5. Magari poi in futuro anche con mosse come f3. Vidit difende in d5, difende pure l'alfiere. Nieman arrocca, non poteva catturare poiché il cavallo era inchiodato. Ora sì invece può catturare. Ma Vidit difende con cavallo f6. Chiaro, Vidit super grande maestro, qualcosa sa fare. Segue cavallo b5 da parte di Nieman, attacca la donna. La donna si ritira in e7 perché deve difendere l'alfiere. E Nieman gioca torre c1, torre su colonna aperta. Segue alfiere a5, Vidit scappa con l'alfiere. Nieman salta con il cavallo in f4 appunto, attacca in d5 e Vidit difende con l'alfiere a6. Segue cavallo per alfiere, pedone per alfiere a3. Con l'alfiere a3 Nieman ora mette pressione sul pedone in e6 perché è diventata questa la debolezza della struttura pedonale del nero. Tuttavia questa mossa non piace tantissimo. Qui Vidit dovrebbe cacciare via il cavallo ma invece gioca una mossa un pochino strana. Si preoccupa tanto della difesa del pedone in e6 ma come potete notare la sua posizione è un pochino passiva. Nieman continua con donna a3, gioca la mossa migliore, attacca la donna, attacca l'alfiere e quindi sta forzando il cambio delle donne. Vidit cattura e Nieman riprende di pedone. Riprende di pedone perché ha una consapevolezza incredibile, riesce a capire bene la posizione. Questa è la mossa migliore, il cavallo deve rimanere attivo. Minaccia tante cose con il cavallo, vedete? Minaccia il pedone in a7, minaccia cavallo d6 per attaccare torre, pedone, cavallo è attivo. Segue torre e 7 per Vidit. Anche questa è una mossa strana. Boh, serve a difendere c7 probabilmente. Però lascia un pedone in presa, Nieman lo cattura e sta meglio. Apparentemente senza fatica Nieman passa in vantaggio. Ma non è proprio così perché ha trovato delle belle mosse. Anche il fatto di catturare in a3 con il pedone è una bella mossa. Il fatto di prendere di mira il pedone in d5 con i suoi pezzi è una bella strategia. Quindi sta giocando bene. Pedone in g5 da parte di Vidit vuole giocare g4, limitare l'alfiere, difendere in e6. Nieman continua con cavallo c8. Devastante. Attacca la torre, può saltare in d6 e poi vuole scappare. Segue torre in e8, cavallo d6, ancora un altro doppio. Questo è un cavallo killer. Cioè sta facendo strage questo cavallo. Torre e7, torre b8. Quindi Nieman attacca sia con la torre che con il cavallo il pedone in b7. Vidit spinge in g4. Nieman ritira l'alfiere in f1 perché in g2 non avrebbe avuto futuro. Ma in f1 invece controlla un sacco di case. E Vidit gioca torre b8. Torre b8, sì, ok, difende, però è una brutta mossa. Perché la torre è un pezzo sospeso. Non comunica con nessun altro pezzo. E quindi è debole. Nieman, infatti, continua con alfiere a6. Il nero non può catturare, altrimenti segue torre per torre. Quindi anche alfiere a6 è una bellissima mossa. Vidit continua con b6. Nieman gioca cavallo c8. Vedete, anche qui si prende un certo rischio. Perché sta mettendo questo cavallo troppo in presa. Ma qui sta attaccando la torre. La torre si ritira in e8. E Nieman gioca torre c7. Bellissima pure questa. Con idee come cavallo e7 scacco. Sta comunque entrando nel territorio nemico. Vidit gioca re f8. Nieman continua con torre c8. Raddoppia le torri. Segue pedone b5. Attacco di scoperta sulla torre. Nieman ritira la torre in c5. Attacca il pedone due volte. Vidit allora gioca torre a8. Attacca l'alfiere. L'alfiere va in b7. Dopo torre b8. Nieman guadagna un altro pedone. Ha due pedoni in più. Cioè, partita dominata dall'inizio alla fine questa. Vidit ritira l'alfiere in d8. Nieman gioca pedone a4. Ora è semplice. a5, a6, a7. Promozione. Fine. Vidit gioca h5. Ecco, ragazzi, quando uno è costretto a fare mosse come h5, queste sono le mosse della disperazione. Qui poteva benissimo abbandonare. Uno come Vidit, che sa giocare a scacchi, però vedete a volte il nervosismo cosa fa? Eh, non abbandona. Non abbandona. Nieman alza i rangi 2. Segue cavallo in h7. Pedone in a5, appunto. Alfiere per pedone. Torre per. Torre per alfiere. Qui semplifica un po' la posizione. Ma guarda caso. C'è il doppio. Vidit non può salvare entrambe le torri. Ne salva una. E ora veramente... Cioè, guarda. Pedone passato in più. Qualità in più. Struttura pedonale sul lato, direi, migliore. Dio buono. Se non è da abbandono questa, io non lo so, ragazzi. Torre c8 da parte di Nieman. Da scacco. Vidit viene in g7. Torre c5. Nieman vuole dare scacco, semplificare il gioco e vincere. Vidit viene con la torre in b2. Nieman difende. Segue torre b1, torre c1, torre b2 e Nieman da scacco in c7. Vidit sale con il re. Nieman gli da scacco. E dopo re in h6, torre h8. Mi spiegate il motivo che ha un super grande maestro di continuare questa partita? Ora, il cavallo è indifendibile. Vidit gioca a re g6. Segue torre per h7. Torre per a2. E Vidit gioca a torre d7. Praticamente, Vidit qui, e mi dispiace dirlo perché è un bravissimo ragazzo, Vidit ha un talento enorme, però qui è veramente caduto in trappola. Cioè, qui è nervoso. Sta subendo male la sconfitta. Magari pensava di poter battere Nieman in questo incontro, non lo so. E sta reagendo malissimo. Cioè, proprio sta facendo una brutta figura. In pratica, mi sembra come quelli che praticamente passano sotto ai miei video, a volte, e dicono che l'avversario ha tutto il diritto di non abbandonare. Ragazzi, cioè, negli scacchi esiste il rispetto. Soprattutto a livelli alti esiste il rispetto. Ok? Il diritto lo hai, certo. Però io alcuni atteggiamenti non li concepisco. Questo atteggiamento ce l'ha anche Carlsen. Infatti, io non sono d'accordo con Carlsen quando rimane solo con il re e continua. Perché significa che proprio, oh, cioè, ti senti imbattibile. Cioè, chi sei? Non puoi mai perdere. Non sei neanche un essere umano, praticamente. Cosa sei? Non lo so io. Cioè, non abbandonano. Ci sono alcuni che non abbandonano. Però Vidit non è così. Solo in questa occasione si sta comportando così. Perché solitamente Vidit abbandona, è onesto. Cioè, gli indiani sono tutti onesti. Torre a 1. Vidit gioca torre in D6. Vidit viene con il re in F6. Segue torre in C6. Cioè, sta per cadere tutto, dai. Re in F5. Torre per E6. E in questa posizione Vidit decide di abbandonare. Cioè, a parte che segue scacco matto a breve, no? Scacco di torre, re qua, scacco di torre. Re F5, torre in F6, scacco matto, fine. Però, cioè, voglio dire, è una partita strepitosa. È una partita a senso unico. Cosa abbiamo visto? Cioè, Neiman si sveglia e massacra uno che ha partecipato al torneo dei candidati. Che dovrebbe essere super mega preparato. Perché Vidit ha un'equip di persone che lo seguono. Però, ragazzi, io credo che anche Neiman abbia delle persone dietro di lui che gli insegnano, lo guidano, lo appoggiano in qualche modo. Perché si sta organizzando troppo bene. Allora, ha lanciato un suo sito dove vende cose, corsi, non so cosa, insomma, vende delle robe. È maturato tantissimo. Chissà se magari va da uno psicologo o a un mental coach o qualcosa. Prende sicuramente lezioni. Dedica, se non mi sbaglio, dalle 12 alle 14 ore agli scacchi. Però non studia per 12-14 ore. Studia 8 ore, poi 2 ore. Le passa online a guardare un po' su YouTube. Altre 2 ore legge notizie sugli scacchi. È vero, la sua vita è incentrata sul gioco agli scacchi. Però sta pensando al business, sta pensando a tante cose. Bene, bene. Cioè, praticamente, stanno costruendo un super uomo. O l'hanno già costruito. Nessuno aveva fiducia in Neiman fino a un anno e mezzo fa. Ora, invece, tutti a fargli complimenti. Cioè, tutti a fargli complimenti. Anche Gotham Chess. Bravo Neiman. Sì, lo sta dimostrando. Lo sta dimostrando davanti a tutti. Bravo. E allora, facciamogli complimenti. Io non vedo l'ora che Neiman arrivi, che ne so, top 10 al mondo. E che venga invitato ai tornei importanti. Perché vi ricordo che viene escluso totalmente da questi tornei. Cioè, Carlsen magari non vuole. Cioè, capito qual è il discorso. Ora vedremo un po' cosa succederà. Ma non è che possono ignorarlo ancora a lungo. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti.